benvenuti e benvenute a questa prima lezione concerto promossa dal conservatorio di musica francesco morlacchi di perugia in questo periodo di pandemia svolgere attività culturali in presenza diventa estremamente complicato per questo il conservatorio ha deciso di aprire virtualmente le proprie porte lasciandovi partecipare a questa lezione concerto in streaming direttamente dall'auditorio del conservatorio francesco morlacchi io sono rossella e vi accompagnerò in questo viaggio musicale tra poco ascolteremo susanna nucci che eseguirà lo studio numero 8 opera 10 di frederick chopin lo studio numero 5 opera 42 di alexandre nicoleevich scriabin e la suonata fantasia numero 9 opera 19 di alexander nicoleevich scriabin buon ascolto di alexandre nicoleevich scriabin e la suonata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti